Posso dire, avete un'aura potentissima. Amici della terra, mi scontriuro, vi supplico di portarvi la vostra energia! Mi serve l'aiuto di tutti, per favore, alzate le mani al cielo, subito! Alzate le mani! Papà, hai sentito? Di chi è questa voce? Sì, credo proprio di aver capito finalmente di cosa si tratta. Sai figliolo, questi sono Goku e i suoi amici. Stanno combattendo contro il crudele Majin Buu per cercare di salvarci. Riuscite a sentirvi? Ho bisogno della vostra energia! Sì, questa è la voce di Goku, non c'è il contatto. Coraggio ragazzo, alza le mani verso il cielo. Bene, adesso anche gli altri, forza! Ecco amico, puoi attingere da noi, siamo onorati di darti il nostro aiuto! Cosa sta succedendo qui? Quei due Saiyano stanno davvero tentando l'impossibile. Leggetto poi è così cambiato. Credo che gli farò i miei complimenti appena lo rivedo. E' in gamba! Guarda, guarda! Questa sì che è una sorpresa! E' da moltissimo tempo, senti il suono della sua cosa. Buona volta ho catturato la legge di spossa della mia vita. Ecco, darò anche io il mio patrino. Ho raggiunto questo livello allenandomi pure a me, è il massimo che posso dare! Mi raccomando amico mio, vai di tutto per distruggere quel mostro! Mi prego ascoltatemi, mi serve la vostra energia, è importante! Eh, ma questo è il corpo, sono sicuro che la sua voce hai sentito! Altro che sono così emozionata! Amici, alziamo le mani! Sì, è proprio lui, non c'è dubbio! E su, avanti, facciamo come tu ci! Sì, d'accordo, andiamo le mani! Ci facciamo bene!